Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chiude il negozio di Chiara Ferragni a Milano. Da mesi si parlava della possibile chiusura del negozio dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni a Milano. Quel giorno è finalmente arrivato. Lo store in Via Capelli 5 è stato definitivamente chiuso questa mattina, giovedì 8 agosto. Lo store di Via Capelli rappresentava il primo negozio aperto dal brand Chiara Ferragni nel 2017, quando i suoi prodotti erano già in vendita in oltre 300 rivenditori e sull'e-commerce. La notizia della chiusura è stata confermata da Chi a inizio luglio e diffusa dal Corriere della Sera, che ha mostrato foto delle vetrine, degli scaffali e degli stand completamente vuoti. La chiusura sarebbe avvenuta questa mattina secondo La Repubblica, che ha riportato la testimonianza dei lavoratori del bar di fronte allo store. Questa mattina hanno svuotato tutto. Problemi per le vendite del negozio a Milano. Le vendite in negozio non erano positive già da mesi. E a dicembre, durante lo shopping natalizio, il negozio appariva quasi deserto. La situazione economica della TBS Crew. TBS Crew è la società che gestisce il blog e l'e-commerce di Chiara Ferragni. Dai bilanci del 2023 è emerso che l'imprenditrice ha scelto di non distribuire i 4,4 milioni di utili registrati dalla sua società, reinvestendoli nel 2024 per garantire continuità all'azienda. Nonostante una leggera flessione rispetto al 2022 5,13 milioni, la TBS Crew ha comunque registrato un aumento del valore della produzione del 19,03%.